Abbiamo passato... vabbè, ieri l'ho detto scherzando, però era inevitabile affrontare un po' il discorso, però era da parte mia, glielo ho anche detto, era in mente tanta la voglia di rivedere, di ripartire comunque da qualche... da qualcosa, che ovviamente abbiamo cancellato subito tutto quello che è successo, almeno parlo per me, per quanto mi riguarda. Abbiamo passato una piacevole serata, sembrava come un primo appuntamento veramente, si è messa tutta in tiro ieri sera. Sì, Maria, perché inizialmente io sono andata via da qua, stavo andando via da qui in tuta, perché poi mi cambio, quindi molto comoda, e lui poi mi dice no, andiamo via insieme, quindi tutto un casino, sono dovuta ricambiare in camerino, e mi sono messo un tacco, e siamo andati da lui, e poi gli ho detto adesso fatti la doccia e vestiti anche tu, perché non puoi venire così con la t-shirt come stanno. Beh, è giusto, è giusto. Quindi poi siamo scesi a cena, si è rilassato, e niente, quindi poi... no? Sì, sì, no, no, sembrava altro. Sì, sì, ok. E quindi poi, quando sei bene di testa, insomma, ritrovi una serenità e una tranquillità, no? Sì, giusto. Stiamo aspettando, stiamo aspettando. Cosa state aspettando? No, come è finita questa serata? Abbiamo parlato per tre puntate, poi è dovuta tornare in hotel e basta. Ah, quindi non avete dormito insieme? No. Vabbè, tanto. E prima di tornare in hotel? Ci sarà un moto. No, vabbè, ci siamo basate. No, vabbè, tanto. Let's go. No, vabbè, tanto. Grazie a tutti